A fine partita a San Mauro Pascoli hai detto candidamente non guardo la classifica, non ci crede nessuno. No, è la verità, ogni tanto sbircio, però ovviamente fa piacere, più che altro perché comunque siamo in un buon periodo, stiamo facendo bene, però non bisogna accontentarsi perché subito domenica abbiamo un'altra partita difficile, un derby contro una squadra che ha cambiato guida tecnica, quindi ci sarà da combattere anche domenica. Il trend regolare è stato il valore aggiunto, sei d'accordo? Penso di sì, a volte nell'ambiente quando si sono fatti 5-6 pareggi consecutivi si vedeva come una cosa negativa, invece secondo me, come hai detto tu, avere quella regolarità che poi magari rifai due o tre vittorie apprezzi anche i pareggi. Sono d'accordo con te, il pareggio per me non è una sconfitta, muovi la classifica, per il morale diciamo che fa bene. A proposito adesso recuperi anche Palumbo? Sì, stiamo recuperando un po' tutti, Palumbo, Caffiero, Bedin un paio di settimane penso che recupereremo anche lui, Banegas domenica l'ho ributtato dentro, quindi sono recuperi importanti. Quali insidie nasconde questo derby? Hai già detto, è chiaro che il cambio della guida tecnica ha dato qualcosa in più all'Avezzano, ma è sempre così, bisognerà vedere poi nel tempo. Sì, è una partita difficile, loro hanno fatto una bella partita domenica scorsa, un allenatore bravo, e quindi, ripeto, ci vorrà il miglior Francavilla che deve far capire subito che noi in casa vogliamo continuare a fare bene. È il momento decisivo del campionato? Sì, adesso abbiamo queste due partite, poi c'è la sosta, quindi adesso dobbiamo cercare di chiudere in bellezza prima della sosta, e poi dopo la sosta ci prepareremo al rush finale.